musica musica what the aaaah aaaah musica 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 hakuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro patciccio siamo ritornati su batman arkham origin quindi dobbiamo andare a prendere il concussione il detonatore a concussione alla batcaverna d'accordo batman andiamo nella batcaverna vai batman bam ne voglio anch'io uno batman ce lo regali per natale bolle che bello è bellissimo alfred riscatta la polenta bolle alfred dov'è alfred bentornato a casa sir il detonatore a concussione è sul tavolo da lavoro si ricordi che usandolo al posto dei pugni infliggerà danni meno permanenti ecco i poliziotti e i dipendenti pubblici ho capito ok beh anche se io volevo dare un bel po' più di cazzotti allora sul tavolo di lavoro potrebbe essere questo qua vediamo un po' eh e qui si è questo prendiamolo ok eh ho capito d'accordo ma come lo uso? cioè ma non mi dite niente? va bene grazie alfred è stato gentilissimo aspetta parliamo con alfred vediamo che dici ben fatto ha fermato electrocutioner con un colpo ho sfruttato la sua arroganza una mossa da manuale che avrebbe evitato anche un bambino vero ma dubito che batterò gli altri tanto facilmente in caso contrario molto presto mangeremo quel prosciutto di natale oh un bel prosciutto di natale accendi ai servizi della va bene andiamo andiamo Batman che tu mi fai confondere tantissimo dove ce ne dobbiamo andare di bello? qua credo obiettivi accedi al server della polizia quindi noi ce ne dobbiamo andare per di qua vai Batman vai riparti lo voglio anch'io è bellissimo ok Comunque anch'io faccio così ogni mattina Frena Frena the batman Battartiglio Ok ce l'ho Andiamo Andiamo Ok io sicuramente vi taglio questo pezzo Ci vediamo direttamente davanti alla stazione della polizia E così capiremo anche come utilizzare il Quel coso che non mi ricordo Ok Ho saltato sto pezzo perché l'ho ammazzato di debotte Quindi grazie Gentilissimi fatemi entrare nella stazione di polizia Eeeh Non ho ancora capito come usare il conquastatore Qua un quastusquale Qualcosa del genere Qui abbiamo niente da prendere Quindi possiamo Andarcene per di qua Trofeo personaggio sbloccato Agente squad Ok sicuramente qui dobbiamo usare Il nostro gel Esplosivo Anche usato per fare delle Fiscio Eh battman però se non ci prendi amico mio Vai Oh vedi Già sarà scoppiata un'altra tubatura Andrei a dare un'occhiaggia ma Sai com'è Lo torno è finito Lob ci capiva davvero Non sarà affatto facile Per accedere al database criminale nazionale Devo trovare la stanza del server Qualcuno dovrebbe dare una lezione Insegnargli come si lavora qui a God Ok Va bene Quindi dobbiamo fare una missione stealth Per chi mi segue da un po' Sapete benissimo Che io le missioni stealth O stealth Siamo Completamente Differenti Ma ci proviamo Ci proviamo Non vi preoccupate Allora Mamma mia quanta gente A questo gli faccio fan botto Beh dovevo Mi raccomando Deve proprio essere così brutale sir Sono dipendenti civici Sono corrotti fino al midollo E mi sono d'intraccio Fossi in lei Rivedrei la mia tattica sir Non può sapere quando potrebbe aver bisogno Del loro aiuto In ogni caso Il suo obiettivo è la sala server del commissariato L'ho segnata sulla mappa Grazie No infatti dicevo Menomale che Alfred ci aveva detto Mi raccomando Non Non gli fare troppo male Ma che cosa Odio e senza tetto E se io faccio così E questo lo Dritto la baccella E questo l'ho rotto Ebbia mia poraccia Quello l'ho rotto proprio Che cos'è qua Quello non so che cosa sia Apriamo Eh Grazie eh Chiusissimo Non posso accedere a porte come queste Con il sequenziatore criptografico Devo trovare un altro modo Ok Dopo aver analizzato un po' la stanza Ho visto che là sopra C'era Una bella grada Che si può facilmente Togliere Quindi Entriamo qua dentro Sarà molto stilt come cosa E questo mi preoccupa davvero tanto Non ho possibilità contro così tanti uomini armati Con l'artiglio remoto di Deathstroke Posso passargli sopra Senza farmi notare Eh Ascoltate Mentre voi giocavate a fare i video Mamma mia quanti sono Io vi procuravo un po' di forza Ho stretto un accordo con il nostro amico Maschera nera Se uno di noi uccide Batman Prima che lo prendano gli assassini La taglia è nostra Tutti i 50 milioni Per chi di voi è stato rimandato in matematica Significa andare in pensione subito Bello Questo sì che è parlare E allora facciamolo fuori Già Che stiamo aspettando Basta così Tacci vostra Abbiamo solo questa notte per finire l'ora Perciò qualunque che vi proviate stasera Lasciate bene Tacci vostra Devo essere silenzioso Per non farmi sentire dagli agenti della sua Vieni qua va C'è loro Sono incorrotti fino al midollo osseo Tacci vostra Batman Batman Ce l'avevi ragione Ma quale No ma qua Spacco tutta faccia Spacco tutte cose Vai Servi Tutela Servi e tutela Che c'è Apri Ok Me ne vado qua Eh Mai che funzionasse qualcosa Dentro sta centrale Quello sbarco Spacco tutta Come faccio Hai qualche idea No come Batman Non è vero Non è vero Non sono io Sono Babbo Natale Vi ho portato tanti doni Ma non dovevo fare tutto stilt Come no Babbo Vieni vieni Olè Vieni qua Bastardo No No non mi dare calci Mai No non mi dare calci mai What the Aio Non si fa Così Bastardo che Mazza quanto Sottosti Da che se ne fatti De marmo Vieni 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 qua Possiamo discuterle Buonanotte Signori Tutto chiuso Tutto chiuso Quella è chiusa Questa è chiusa Questa Ah questa è aperta Grazie mille Allora Cosa fa questo tuo Disturbatore Un po' di questo Un po' di quello Ma più che altro Fa un bel po' di Pensa agli affari tuoi Vi ricordate chi è quello? Metti su questo piano E va bene Gli farò dare un'occhiata Dai ragazzi del deposito Prove Spero che non sia fragile Però A volte Hanno la mano pesante Vieni qua Va Non di nuovo Non di nuovo Ciao Amico bello Parla O non andrai Da nessuna parte Mai più No No Dovrei dirtene quattro Per come mi hai gettato Da quel tetto E invece mi dirai Come funziona Questo disturbatore Chi è? Chiedi agli spirri Ce l'hanno nel deposito Delle prove Che ne dici Vogliamo andarne a parlare Sul tetto? Ok ok Hai vinto Inceppa le armi Sblocca le serrature Elettroniche Va bene? Ora Mi lascerai andare Come era finita Per te L'ultima volta? Batman Sei Un cacchio Di figo Sei un figo Batman Mio dio Allora Dobbiamo andare A prendere Boom Li stanno picchiando Tantissimo Ma no Bam Purelli Allora come faccio? Ci sarà pure un modo Ok Molto più facile Di quello che credevo Ok Va bene Ormai è andata Ormai è andata così Venite qua Aio No non si fa mai Mamma mia Quanti cacchio sono Boom Mamma mia Bat pot È come se piovesse Bam Bam Non iniziare Non iniziare No Con calma Brutti Sfiri corrotti Puzzolenti Cacafratti Oh lì Mamma mia Le botte Le botte Sì ma così mi state gonfiando Anche voi Non va bene Aia Mamma mia Quanto meno Batman Sì che posso Bella Vai Batman Le stiamo facendo Fuori tutti Vieni Boom Boom Voi Signorine Avete bisogno No eh Ci vostra Ok quindi qua Usiamo questo Mettiamo il gel Spruzziamo il gel Tac Entriamo Permesso Pronto Dica E andiamo Per di qua Oh Oh Detetti Conan Non importa Di cosa sta succedendo Là fuori Devo risolvere Questo problema Se non do A quel bastardo Ciò che vuole Manderà la registrazione Ai giornali Che diavolo Dovrei fare Adesso Capo Bastardo Capo Così ne impari Ammazza Comunque Sono tutti corrotti Qua dentro Una stazione di polizia Di agenti corrotti Ok apriamo Io continuo ancora Anche se è quasi mezz'ora Che sto registrando Però non so quanto vi ho fatto vedere Oh calma Batman eh Ok Andiamo per di qua Barbara Ciao Barbara E andiamoci per di qua O lì Poi saliamo qua Cioè ma qua Cioè ma qua Sono veramente Tutti corrotti Ok Ce l'ho riuscito Devi controllare il tuo settore Lascia che ci pensino Quelli della SWAT Come mai Non l'hai saputo Brandon ha stretto Un accordo con Maschera Nera Vogliono uccidere Batman E intascare la taglia Dimmi che stai scherzando E Gordon ne sa qualcosa Forse Ma cosa vuoi che faccia Cosa potrebbe fare Brandon e i suoi Non lo ascoltano praticamente più Il dipartimento è finito Ehi Ma come facciamo A guadagnarci anche noi Ecco Tanto Peccatevi questo va Buonanotte a tutte e due Bastardi Nelluri di schifosi Andiamo avanti Vai Batman Allora sicuramente dobbiamo Entrare anche a questo Vai Quindi Questo qua Facciamo Ma non posso Che cosa No Come comunicazioni Con i pot computer Bloccate Ma E mo Usano un protocollo Di sicurezza Che non conosco E le finestre Sono in vetro Di un forzato Il disturbatore Nel deposito Delle prove Può fare al caso mio Ok Ok perfetto Sono riuscito A sconfiggere Sti Teste Di micchia E possiamo Andarcene avanti Tra l'altro Potrei anche potenziarmi Ma ci potenzieremo Tra poco Ok Ha raggiunto l'infermeria Ora cerchi l'ingresso Di un vecchio vano Dell'ascensore La porterà Al deposito Delle prove Va bene Ok Ragazzi Io direi che l'appuntamento Di oggi può finire qui Se il video vi è piaciuto Pollici in su Commentate Condividete Al prossimo appuntamento Con il vostro Ciccio Che mi rò Tantano Ciao Sono Ciccio Gamer Se il video ti è piaciuto Lascia il pollicione Se no sei un corpore E se non lo lasci Stai pur sicuro Che prima o poi Ti si incula Un paguro Oh yeah Sì